Edizione serale del nostro giornale. Buonasera ai nostri ascoltatori, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione. Occupiamoci subito dei importanti lavori che sta facendo Gaia sulla foce della fossa della Bate. Parliamo di mare pulito, i risultati del primo mese di indagini condotte da Gaia sugli allacci fognari al Lido di Camaiore. Vediamo che cosa è emerso. Un territorio, quello costiero della Versilia, che ha fatto da apripista sui temi ambientali, non poteva più tollerare ritardi nel completamento del sistema depurativo delle acque. Nel Mirino sono finiti ancora una volta le foci di alcuni corsi d'acqua, Fossa Bate, Motrone e Fosso Fiumetto, che talvolta rendevano non idonee alla balneazione le acque del mare. Da qui è partito il monitoraggio che vede il comune di Camaiore e Capofila e che punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi fognari o depurativi. In quattro settimane sono state circa 100 le utenze a Lido di Camaiore, in zona Fossa Bate, verificate da Gaia con lo scopo di accertarne il corretto convogliamento degli scarichi fognari. Le verifiche partite a fine luglio e proseguite nei mesi di agosto hanno evidenziato il 23% di allacci regolari di fognatura bianca nella nera e nessun caso di allaccio della fognatura nera nella bianca. All'appello mancano ora una sessantina di utenze che saranno analizzate nelle prossime settimane a partire da lunedì. Il progetto pilota di indagine sugli allacciamenti fognari a Lido di Camaiore fa parte di un più complesso programma di interventi strutturato da Gaia in sinergia con il comune di Camaiore per un totale di 800 mila euro di investimenti con l'obiettivo di contribuire a risolvere i problemi di inquinamento della fossa dell'abate e migliorare la qualità delle acque del mare. Il 28 settembre ripartiranno le verifiche alle utenze in via Fossa Abate, via Bellini, via Roma Capitale e Limitrofe. Le verifiche richiedono anche il sopralluogo nella proprietà privata. Qualora dai controlli dovesse essere rilevato uno scorretto convogliamento dello scarico della fognatura bianca o di quella nera, Gaia provvederà a trasmettere il nominativo dell'utente all'amministrazione comunale che provvederà ad emettere le ordinanze di propria competenza. Restiamo all'edio di Camaiore perché intenso il lavoro sulla fossa dell'abate da parte del consorzio di bonifica in azione da stamani per rimuovere la nuova fioritura di alghe che ha interessato il tratto finale del corso dell'acqua dall'Aurelia fino al mare. Il consorzio assicura che procederà dall'interno del canale lavorando direttamente da un barchino prevedendo di concludere le operazioni in un paio di giorni. Entrambe le specie spontanee sono ben note ai tecnici. Si tratta di alghe verdi totalmente innocue per la salute che si manifestano ciclicamente lungo i corsi d'acqua soprattutto con l'aumento delle temperature e la concentrazione nell'acqua di sostanze nutrienti. Continuiamo a parlare di acqua. La Capitaneria di Porto di Viareggio fornisce i primi numeri di Mare Sicuro 2017, presenza sul territorio e tanta tantissima prevenzione. Vediamo. Una ventina di ragazzi di età compresa tra gli 11 e 17 anni e i loro accompagnatori che stanno frequentando in questi giorni un campo scuola della protezione civile hanno visitato la sede operativa e i mezzi navali della Guardia Costiera di Viareggio impegnati nell'operazione estiva Mare Sicuro 2017. La giornata con i ragazzi è stata organizzata dalla Capitaneria di Porto di Viareggio e dalla pubblica assistenza di Stazzema in collaborazione con Ampass Nazionale e Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Il campo scuola vuole sensibilizzare i più giovani alla salvaguardia dell'ambiente, anche marino, e avvicinarli al mondo della protezione civile. Intanto la Guardia Costiera di Viareggio ha diffuso i primi numeri dell'attività svolta da metà giugno a oggi, con risultati soddisfacenti in termini di sicurezza della balneazione e della navigazione, anche grazie alle favorevoli condizioni meteo-marine che hanno caratterizzato la stagione. Sul fronte del soccorso in mare nelle acque della Versilia, le tre motovedette hanno compiuto 13 interventi di salvataggio ed assistenza in mare, tutti a buon fine per un totale di 25 persone assistite. I decessi sono stati 5, ma nessuno di questi è riconducibile a ipotesi di annegamento, bensì a malori occorsi in spiaggia. 3.000 i controlli effettuati su barche da traffico e da pesca. Le pattuglie in terra hanno verificato che da Torre del Lago a Forte le Marmi i 444 stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate rispettassero l'ordinanza di sicurezza della Capitaneria. 3. Le notizie di reato elevate, una per inquinamento ambientale e due per occupazione abusiva di suolo demaniale. Gli illeciti amministrativi riscontrati in mare e sulle spiagge sono stati invece 118. 14 invece le violazioni al comportamento degli assistenti bagnanti per gravi carenze nelle dotazioni di primo soccorso e salvataggio. Infine 39 sanzioni derivanti dalla pesca sportiva in zone o con attrezzi vietati da irregolarità nella tracciabilità dei prodotti etnici. E naturalmente sia il comandante che il vice comandante della Capitaneria di Porto di Vareggio ringraziano per avere consentito lo svolgimento di questo durissimo lavoro durante questa prima parte della stagione estiva. Andiamo a Camaiore, ancora un incendio sopra Camaiore, tiene impegnati in questo momento gli elicotteri regionali, lo comunica la Sala Operativa della Protezione Civile. Il fuoco, come vediamo da questa immagine, è partito intorno alle 14 all'interno di un'area boscosa. Oltre all'elicottero regionale sui monti di Camaiore sono attualmente al lavoro quattro squadre di volontari e operai forestali dell'Unione dei Comuni della Versilia. Quattro giorni di processi alla Versiliana Banina di Pietrasanta per la festa del Fatto Quotidiano, giunta all'ottava edizione. Apertura il giovedì 31 agosto, chiusura il 3 di settembre domenica. Quindi da quest'anno un giorno in più di festa del Fatto Quotidiano. Vediamo i particolari. Sarà il processo il filo conduttore dell'ottava edizione della festa annuale del Fatto Quotidiano, presentata stamani dal sindaco di Pietrasanta Massimo Mallegni e da Cinzia Monteverdi, che si terrà nel parco della Versiliana Marina di Pietrasanta dal 31 agosto al 3 settembre. Quest'anno non solo annunciamo la festa del Fatto Quotidiano, ma annunciamo una festa del Fatto Quotidiano che comincia, ritengo, col botto, perché l'Ofter Night il 31 agosto rappresenta intanto una novità. Quest'anno, anziché avere tre giorni della festa del Fatto, ne avremo quattro. La serie dei processi inizierà venerdì 1 settembre alle 18.30. Andrea Scanzi modererà un incontro-confronto sul centro-sinistra con Pierluigi Bersani, Rosibildi, Gad Lerner e Tommaso Montanari. Il centro-destra sarà processato l'indomani, sabato 2 settembre. Alle 12.00 toccherà a Paola Zanca, incalzare Giancarlo Giorgetti, Massimo Malleni, Giorgia Meloni e Gaetano Quagliariello. Alle 17.00 poi il direttore Marco Travaglio intervisterà Pier Camillo Davigo e a seguire alle 18.30 si terrà l'atteso processo al Fatto. Chiuderà il ciclo dei processi domenica 3 settembre alle 11.30, il processo ai 5 Stelle, con Alessandro Di Battista, Massimo Fini, Virginia Raggi e nei panni del conduttore il direttore del Fatto Quotidiano, Peter Gomez. Quest'anno di spettacoli ovviamente sono tutti interessanti, soprattutto perché Marco Travaglio lancia più che uno spettacolo un suo progetto che poi lo vedremo anche nel progetto nostro televisivo. L'interesse principale ovviamente da un punto di vista nostro, imprenditoriale, è anche il 31 agosto dove la serata è una serata più che altro di un concerto rapper, ma non solo perché all'interno, come vedete nel programma, ci sono anche diciamo 5 tra i più importanti influencer della rete che sono giovanissimi. Andiamo a Seravezza, lotta all'abbandono dei rifiuti, bonificata stamani la discarica sotto il ponte della Pescarella, rimossa quasi una tonnellata e mezzo di rifiuti domestici. Su incarico dell'amministrazione comunale di Seravezza, Ersu ha rimosso stamattina i rifiuti abbandonati sotto il ponte di Pescarella tra Ripa e Vallecchia, segnalati dai volontari dell'associazione ambientalista Fareverde Versilia. L'operazione di pulizia si è svolta nelle prime ore di questa mattina per recare il minor disagio possibile alla circolazione automobilistica sul ponte, vista anche la necessità di intervenire con un camion dotato di braccio meccanico. Il traffico è stato regolato da una pattuglia della Polizia Municipale di Seravezza. In totale sono stati rimossi 1.400 kg di rifiuti urbani non differenziati, frutto evidente della consolidata prassi da parte di alcuni di liberarsi della spazzatura di casa. La maggior parte dei rifiuti era contenuta in semplici sacchetti della spesa, accatastati sulla sponda destra del fiume, occultati alla vista da una fitta vegetazione. Rinvenuta anche una modesta quantità di Ethernet rimasta sul posto in attesa della rimozione da parte di un'impresa specializzata. Confusi fra la spazzatura sono stati trovati alcuni borselli contenenti documenti ed effetti personali, frutto di furti. Quello di stamani è stato un intervento importante e doveroso, dato che ci troviamo in prossimità di un corso d'acqua molto frequentato in queste calde giornate estive, ha dichiarato l'assessore Dino Venè. Interventi che costano molto cari alla comunità perché esulano dalla normale attività di spazzamento e raccolta dei rifiuti regolata con Ersu. Interventi di questo tipo sono stati fatti nei giorni scorsi anche in via Rotta e in via delle Ciocche, nella Piana. L'azione degli incivili è incessante, ma altrettanto incessante è l'azione di monitoraggio del territorio da parte del Comune. Stamani, a Pescarella, gli agenti della Polizia Municipale hanno avagliato a campione la spazzatura alla ricerca di informazioni utili per risalire agli autori dell'abbandono. Record di presenze per lo spettacolo andato in scena ieri sera a Villa Bertelli, The Journalist, fans, pensate, accampati già dal pomeriggio per godersi lo spettacolo. Vediamo! Sold Out, completamente tutto esaurito come il titolo del loro ultimo album, hanno aspettato in coda per ore accampati lungo le strade attorno a Villa Bertelli, ma sono stati ripagati fan dei The Journalist. La band, formata da Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera, ha regalato un'ora e mezzo di pop italiano tra nuovi successi che li hanno consacrati a grande pubblico, come completamente Tra la strada e le stelle o il tormentone estivo Riccione, ma anche vecchi pezzi, quelli amati e cantati a squarciagola dai fan della prima ora. Perché davvero i dei giornalisti non sono soltanto e soprattutto quelli che Riccione ha fatto conoscere alla massa. Assoluto protagonista sul palco, il frontman Tommaso Paradiso, che tra un consorzo di birra, tante battute e anche due brevi cover al piano di due riferimenti musicali, come gli Oasis e Antonello Venditti, per ogni canzone racconta la nascita e il senso profondo. Alla fine, con 4.000 spettatori, la data dei dei giornalisti a Villa Bertelli va in archivio con un vero record di presenze per la manifestazione di Forte dei Marmi che quest'anno davvero ha trovato la sua consacrazione, proprio come questa band. Piatra Santa ha ricordato le vittime del sisma del 24 agosto di un anno fa, dopo Camerino con la donazione del parco giochi e di un assegno di 10.000 euro, frutto della sensibilità di imprese e cittadini della comunità di Petra Santa raccolte attraverso una serie di iniziative proterebotati, il sindaco Mallegni ha partecipato, insieme ad altri sindaci italiani, alla visita del nuovo insediamento abitativo di Arquata del Tronto, frazione di Ascoli Piceno, inaugurato alcuni giorni fa dopo un'attesa lunghissima. Niente telecamere e giornalisti, i sindaci hanno depositato una corona di fiori nella chiesetta allestita, a fianco delle casette, dove giovedì pomeriggio si è tenuta la commemorazione alla presenza del presidente della Camera, Laura Boldrini. Furono 48 le vittime nella piccola frazione montana di Arquata del Tronto, profondamente segnata dal terremoto, con intere comunità costrette a lasciare le loro case e con loro un pezzo della vita. La visita è stata organizzata dal sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, in uno dei luoghi simbolo della devastazione. Lo Stato è in grave ritardo, ha commentato Massimo Mallegni. Delle 3.700 casette necessarie, ad oggi ne sono state consegnate solo 750 nelle regioni del centro-nord interessate dal sisma. Appena 42 nelle Marche. In un anno sono state rimosse appena il 9% delle macerie estimate. La ricostruzione dunque procede lentamente e di questo passo, hanno sottolineato i sindaci, serviranno 10 anni per vedere dei risultati tangibili. Coloro che hanno perso tutto vivono forzatamente fuori casa da un anno, aspettando che lo Stato li aiuti a tornare nelle loro case e a una vita normale. Ieri sera nel quartiere Varignano, il popoloso quartiere Varignano, c'è stato un incontro che ha avuto come protagonisti l'unione degli inquilini, antisfratto per intenderci. C'è una sinistra lontana dalle periferie che guarda allo scintillio delle vetrine e che punta sulle ruote panoramiche e le code dei pavoni. C'è una destra che semina odio e fomenta divisioni sperando nella guerra tra poveri. Sono due facce della stessa medaglia, si legge nel documento che hanno redatto. C'è poi chi si auto-organizza e prova a dare risposte concrete ai bisogni. Ieri sera una piazza del Varignano ha ripreso vita con un'assemblea pubblica sul diritto all'abitare. In quella piazza non c'erano spacciatori, non c'erano manigoldi, non c'erano razzisti. Unione inquilini e brigata sociale antisfratto hanno scelto il quartiere Fontanini del Varignano perché ERP da tempo cerca inutilmente di sfrattare un pensionato che al momento ha resistito grazie alla solidarietà costruita con i picchetti antisfratto. Tra le varie proposte emerse negli interventi che si sono susseguiti ieri sera c'è stata anche la richiesta di avanzare al Comune di Vereggio di uscire dall'inutile ERP. È stato sottolineato quanto sia importante il lavoro del recupero delle case e di come sia stata costruita mobilità abitativa dal basso. Le istituzioni, sia quelle amministrative sia quelle giudiziare con i loro sgomberi persino di minori e murando le case, hanno mostrato solo incapacità, aggiungono ancora. Non sono state risparmiate critiche all'amministrazione via Regina anche per l'aumento delle tariffe delle menze scolastiche e per il rifiuto dell'assessore Gabriele Tomei di sedersi ad un tavolo con l'unione degli inquilini. Doppio appuntamento per il premio letterario di Vereggio Repaci che quest'anno compie 88 anni. Un'edizione speciale che vuole ricordare l'assegnazione del premio ad Antonio Gramsci. Oltre alla serata finale in programma domenica 27 agosto alle 21 al Principino, sabato 26 alle 17.30 si terrà un convegno dal titolo Antonio Gramsci tra letteratura e politica in occasione dei 70 anni della consegna del premio alle lettere dal carcere. Location d'accensione Villa Paolina. E sempre sabato sera, e qui si tratta di solidarietà con l'Istituto Sacro Cuore di Vereggio I Poveri Vecchi, sabato sera, 26 agosto alle 19, nel giardino dell'Istituto Sacro Cuore a Vereggio si terrà una periscena e The Rising Sound un coro gospel. Presenta Franco Cesco Boraccini, dirige il maestro Sando Macelloni. Ieri sera, nel corso di una bellissima iniziativa svoltasi a Piano di Mummio, è stata presentata ufficialmente tutta la compagine dell'Atletico QM Massarosa. Festa dunque a Piano di Mummio anche domenica per una bella iniziativa legata alla Buca delle Fate, il sito archeologico. Il servizio. Cristina Batini, consigliere comunale di Massarosa, anche lei ha la presentazione dell'Atletico QM, la scuola calcio, ed è importante una scuola calcio quindi per far crescere i bambini all'interno di un territorio importante come quello di Massarosa. Sì, in effetti il QM è una realtà molto importante all'interno del nostro territorio di Massarosa, raduna più di 100 bimbi e sono molto felice che questa società operi nel nostro territorio. I dirigenti, dal presidente ai dirigenti, si impegnano tutti i giorni, compreso le vacanze estive nel riuscire a portare avanti questo progetto. Ringrazio tutti i collaboratori, gli allenatori che portano avanti i bambini ma non soltanto dal punto di vista calcistico ma educativo. Venire qua alla presentazione del QM è sempre un piacere. Facciano in bocca al lupo a tutti gli atleti e alla società. Cristina, siamo quasi alla fine di agosto, tante iniziative all'interno del QM in questa estate. Un'analisi tua finora, come sta andando questa estate? Sta andando bene, ci sono state moltissime iniziative, c'è stato il teatro greco-romano, c'è stato Stiava sotto le stelle, ci sono stati moltissimi eventi. Domenica avremo su Piano di Momio la festa della buca delle fate, un percorso enogastronomico con anche la rappresentativa del nostro amico ormai amico Bonanni con tre racconti, tre rappresentazioni, il mago merlino, la spada nella roccia e le fate. Quindi da non perdere sabato da mezzogiorno alla buca delle fate. E complimenti agli organizzatori di questa iniziativa e alla società sportiva QM, che sarebbe Quercione, Momio. Firmato questa mattina in comune a Viareggio il patto d'amicizia con la città di Puerto Montt in Cile. Sono avviati i rapporti economici fra le aziende viaregine e quella splendida città cilena, commenta il vice sindaco Alberigi, che qui lo vediamo mentre firma il patto. Patto di amicizia che oggi abbiamo sottoscritto, dice Alberigi, e che costituisce un'utile premessa per scambi culturali e progetti di cooperazione. Ringrazio il vice sindaco Hector Ulloia Agugliera per essere venuto a trovarci, conclude Alberigi, e lo invito nuovamente a tornare a Viareggio anche nell'ottica di una promozione comune delle nostre città, magari durante il carnevale. Ora facciamo un brevissimo stacco pubblicitario e tra qualche attimo la pagina sportiva. Ben ritrovati alla pagina sportiva, apriamo colloqui perché la nazionale femminile e quella maschile, Under 20, sono partite oggi per nanchino tra i componenti, la nazionale di hockey e Under 20, anche alcuni giocatori viareggini. Roy Lepori. La nazionale femminile di hockey e quella maschile Under 20 sono partite dall'aeroporto di Fiumicina alla volta di Nanchino, dove domenica si aprono i World Roller Games con le partite dei primi due mondiali. Domenica 27, quindi si chiude fino al 2 settembre, questa manifestazione che vede impegnate le ragazze, allenate da Dario Rigo alla sua prima esperienza in questa nazionale. Giulia Galeassi, attaccante della S. Viareggio, classe 91, fa parte di questa nazionale, quindi in bocca al lupo all'atleta viareggini. L'Under 20, dopo il quarto posto di Villanova di due anni fa, si presenta a Nanchino con una formazione quasi esclusivamente composta da atleti all'ultimo anno di categorie, con le uniche eccezioni, del portiere Stefano Zampolo e Francesco Compagno. L'esordio domenica, come detto come la nazionale femminile, alle 10.30 ore italiane 4.30 contro l'Argentina. Di questa nazionale fanno parte anche due versilesi, Giacomo Maremmani, difensore del Forte dei Marmi, classe 98, e l'attaccante Davide Gavioli, che ha anche lui classe 98, attaccante del centro giovani calciatori. Che dire, in bocca al lupo ovviamente sia la nazionale femminile che quest'anno del 20 e poi ovviamente anche alla senior, ma su questo ci sentiremo nei prossimi giorni. La squadra del bagno Alice ha vinto il torneo delle colline disputatesi sul campo del Massarosa. I ragazzi di mister Alessandro Laras si sono affermati in finale contro la squadra dell'hotel Spinelli con il punteggio di 4 a 2 con i gol di Simonini, autore di una tripletta, e Battisti. La stessa squadra aveva partecipato anche al torneo dei bagni, classificandosi al secondo posto, svoltosi al campo basalari della Croce Verde. Al via, sui campi del Tennis Club Italia, l'undicesimo trofeo Ristorante La Barca, terzo Memorial Claudia, valido per il circuito Mauro Sabatini, under 10, 12 e 14, maschile e femminile, con più di 90 iscritti. La manifestazione si conferma come un appuntamento importante nel panorama giovanile, dove ogni atleta darà il massimo sempre nel rispetto reciproco e nella massima sportività, come è da sempre, e il punto di partenza di ogni sport. Ebbene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, l'appuntamento come sempre a presto. Chiedo scusa, mi dimentico sempre che c'è una terza parte della manifestazione dedicata all'aggiornamento delle notizie. Non ci sono altro tizie al momento, di rilievo almeno, allora non ci resta a questo punto che augurarvi un buon proseguimento di serata e naturalmente in compagnia delle nostre informazioni. Arrivederci. Grazie.